Passa al pesto di verdura bianca, polpette di lenticchie in umido e crudite di carote e cavolo cappuccio viola. E' questo il menù amico del pianeta che domani verrà servito a più di 130.000 bambini e bambine di tutta Italia. A presentare la proposta, poi accolta dall'associazione Food Insider e da decine di comuni italiani, è stata Fano che ormai da anni ha avviato un percorso per promuovere pratiche e azioni a basso impatto ambientale con un servizio di rifezione scolastica che rappresenta un'eccellenza. Ora questa nuova iniziativa che si inserisce nell'ambito della Green Food Week ha ottenuto più di 100 adesioni tra comuni, università e aziende. Un menù ecosostenibile a base di legumi, di verdura, che sia utile non solo per quanto riguarda l'educazione alimentare ma anche insegnare l'importanza della sostenibilità dei prodotti alimentari sul nostro ecosistema. La risposta è stata molto grande, ci sono grandi comuni a partire da Roma, ma anche Brescia, Bergamo, Rimini, Sesto Fiorentino, Cremona, Mantova, che hanno aderito la proposta di Fano e saranno circa 330.000 i pasti con il menù di Fano che verranno proposti in giro per l'Italia in quella giornata. Ovviamente è una giornata dal forte valore simbolico che si ricollega tra l'altro a un'altra grande campagna che mi illumino di meno e ha l'obiettivo non solo di sensibilizzare in questo momento specifico il Paese su questo tema ma anche di quello di proporre in maniera strutturale a partire dal prossimo anno scolastico in tutti i comuni d'Italia che hanno fatto delle riflessioni scolastiche, dell'educazione alimentare, un loro elemento di eccellenza, un menù stabile, strutturale, con queste caratteristiche. È una sfida grande che però un comune come Fano, che in questi ultimi anni ha avuto molti importanti riconoscimenti proprio a livello nazionale per la qualità della sua riflessione scolastica, ci siamo sentiti di proporlo e lo proponiamo quindi con molta convinzione e anche un pizzico di orgoglio. Le cose non si improvvisano e non arrivano per caso, ha poi aggiunto il primo cittadino che ha la delega alla Città delle Bambine e dei Bambini. Nel corso della conferenza stampa, Seri ha sottolineato le scelte e il percorso vincente portato avanti dall'amministrazione comunale. Tutto questo sta per due obiettivi. Uno è quello della qualità e dell'offerta e dell'alimentazione sana per i nostri bambini. L'altra è l'attenzione all'ambiente, a avere delle azioni che siano sostenibili con l'ambiente. Ci riempiamo sempre la bocca di grandi sfide, poi bisogna essere anche conseguenti. Questa è un'azione importante e ci fa piacere che ci viene riconosciuta e Fano e Capofila di tutta una serie di città importanti del nostro Paese che vanno da Bergamo a Roma, a Parma e potrei continuare di tante eccellenze e questo gratifica ancora di più perché significa che tutte queste che sono eccellenze in questo settore riconoscono Fano come eccellenza sopra le altre.